L'hanno chiamata operazione non solo pane perché è stato utilizzato anche un forno per coprire un'intensa attività di spaccio che avveniva con ordini stabiliti telefonicamente e consegnati o addirittura lasciati in luoghi concordati o presso le abitazioni dei pusher dove si realizzava la compravendita e la consumazione dello stupefacente. Il tutto per garantirsi l'impunità dalle forze dell'ordine. I clienti usavano frasi criptate chiedendo di ritirare di volta in volta mezzo chilo di pane o mezza pagnotta per nascondere il reale riferimento alla cocaina. Una sorta di vero e proprio take away che i carabinieri del Comando Provinciale di Calabria con il supporto dei reparti specializzati agendo nelle province di Catania e Reggio Calabria hanno sgominato arrestando nove persone, otto in carcere e una agli arresti domiciliari accusate a vario titolo di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in maniera reteata in concorso fra di loro.